Siccome in montagna, vicino alle colline, tutti i ponti erano stati fatti saltare con l'esplosivo, allora i tedeschi non andavano più con l'autoblindo, con i carri, ma ti hanno tentato diverse volte di circondare la montagna, ma ci sono mai riusciti per questo fattore. E loro avevano organizzato la cavalleria dei mongoli, prigionieri, quei cavalli. E avevamo saputo, avevamo sentito, dallo spostamento della bassa reggiana, di venire su, di tentare di circondare le colline della montagna. La strada che va dalla chiesa di Rivalta, andando in su, sapendo che veniva tutta quella strada, abbiamo messo le mine su tutta la strada, infatti abbiamo visto i cavalli a volare per aria, perché è una mine di carro.